non immaginavo che la situazione di via etolia in zona taranto 2 fosse così precipitata beh apparentemente uno una persona passa e vede la sporcizia già è un problema ma ci sono situazioni ancora più pericolose vedete qui c'è tutta una distesa di sterpaglia una sterpaglia che è cresciuta rigogliosa e che seccandosi purtroppo potrebbe dare il là potrebbe essere purtroppo il terreno fertile per così dire per far divampare incendi basta un minimo una cicca di sigaretta un mozzicone di sigaretta lanciato gettato da qualche sproveduto ed ecco che il l'incendio divampa quindi come purtroppo in parecchie occasioni è già accaduto abitanti della zona gli alcuni abitanti della zona si sono rivolti in maniera ripetuta o se dire ossessiva passatemi questa espressione ma legittima la cosa è stata è legittima e sacrosanta a mezzo pec all'amministrazione comunale al quindi hanno inviato una serie di pec ai vari settori dell'amministrazione assessorato all'ambiente gabinetto sindaco si sono rivolte ai vigili del fuoco dicendo noi abbiamo paura che qui davvero ci si possa possa scatenarsi un incendio nessuna risposta qualcuno ha anche detto dell'amministrazione ma dovete capire questa è un'area privata sembra di caltagirone abbandonata noi non possiamo mettere mano non è così caro melucci devi imparare permetti che te lo dica ad amministrare perché ho assessori al ramo competenti come si fa tua amministrazione chiami il privato il privato magari se ne frega bene io amministrazione intervengo a mie spese realizzo l'opera di bonifica e poi mi rivalgo io amministrazione su te privato e se non sarebbe troppo comodo i privati abbandonano tutto e la città vive così nel nell'anarchia nell'abbandono questo bisogna fare caro melucci questo bisogna fare ma io dico dinanzi a tante pec a tante insistenze nessuno mai si è degnato di intervenire è mai possibile una cosa del genere ma così voi intendete amministrare taranto cosa aspettiamo una tragedia quindi a questo punto quest'area lo ripeto pare che sia di caltagirone o caltagirone o non caltagirone a me non interessa qui in queste condizioni non si può non si può vivere perché davvero è a rischio la pubblica incolumità è come rischio di infezioni lo dicevo la presenza di insetti di ratti ma anche soprattutto proprio ai fini della sicurezza per il la possibilità tutt'altro che remota remota del divampare di incendi